ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlo di questa fantastica scatolina nera che poi c'è anche di altri colori un progetto che avevo sostenuto su kickstarter mi pare un crowdfunding ma tanti mesi fa è passato un sacco di tempo infatti l'aspettavo con ansia finalmente arrivata ce l'ho già da qualche settimana non me ne posso più separare che cos'è è un contenitore per mettere dentro una memoria m2 quindi loro vi danno solo il contenitore la memoria da comprare a parte che pesa 45 grammi a un display integrato da 1.7 pollici che non serve a guardare i film ma serve a darvi tutte le informazioni in tempo reale sullo stato della memoria interna molto importante e sul trasferimento ma vi dirà anche un sacco di altre cose velocità fino a 10 giga per secondo e supporta m2 in un formato che dopo vi faccio vedere fino a 2 terabyte allora parliamo subito di prezzi io l'ho presa adesso non mi ricordo ma potrei averla pagata la metà di quello che costa adesso adesso costa su amazon si trova tranquillamente sui 90 euro la vendono anche sul loro sito direttamente li vale non li vale non costa poco però io non me ne posso più separare è piccola ce l'ho sempre in tasca per me che faccio grossi trasferimenti perché mi capita di montare video a casa o magari rifinisco di montare il negozio quindi mi devo portare avanti indietro tantissimi giga di roba io ero un po indietro tecnologicamente su questo discorso infatti la lavoravo ancora con le chiavette non avevo un hard disk esterno perché è troppo grosso e ci mettevo un po di tempo trasferire file l'ho sempre fatto per carità si fa lo stesso ma vi posso dire che avere una cosa del genere semplifica di molto il lavoro in qualsiasi settore dove sia necessario trasferire file di grosse dimensioni adesso vi faccio vedere come arriva poi la colleghiamo la proviamo vi faccio vedere un po di funzioni principali e ne riparliamo a fine video scatolina anonima marrone e arriviamo finalmente la scatola della nostro dock case dock case pocket m2 nvme smart ssd enclosure e in pratica solo il contenitore colore versione tutto quello che supporta usb 3.2 generazione 2 da 10 gigabyte per secondo type c alluminio e vetro temperato le misure e nient'altro finalmente abbiamo ricevuto il momento di aprirlo allora in confezione troviamo questa parte rigida formata tagliata a misura con un cacciavite che servirà appunto per il montaggio della memoria un cavettino corto type c da 10 gigabyte per secondo 60 watt marchiato anche questo dock case se lo fanno fare su misura è molto molto corto sarà 30 centimetri però sufficiente e finalmente guardate che roba piccola tutto d'alluminio tutta la parte dissipante un pulsante la porta type c il foro per un laccetto non incluso e il nostro display protetto da pellicola non resta che aprirlo togliamo una vite si apre la parte col dissipatore e qui andrà montata la nostra memoria il coperchio che funge dal dissipatore ha già questo quadratino per fare da conduttore di calore come scritto qui non bisogna togliere la pellicola io in questo caso ho preso una memoria della transcend una 256 che per me basta avanza come dobbiamo sceglierla ce ne sono vari tipi di memoria m2 dovete cercarla come 22 30 che poi la misura 22 per 30 vi lascio una link con tutte quelle che potete trovare su amazon ma potete comprarle un po dove vi pare chiaramente la scelta del componente memoria m2 andrà ad influire sulle prestazioni globali del dispositivo ecco la nostra m2 come si monta bisogna togliere la vite di blocco qua sempre col cacciavite in dotazione inserire la memoria che ha un'unica posizione possibile nello zoccolo in questo modo mandarla fino in fondo e rimettere la vite la vite blocca la nostra memoria guardate che sia inserita correttamente provate al limite a mollare la vite vedere se a gioco non si deve muovere memoria installata mettiamo il dissipatore chiudiamo a questo punto spellicoliamo possiamo iniziare a utilizzarlo ok dopo averla collegata ci sarà una fase dove viene riconosciuta la m2 che è stata installata e poi parte la fase di ricarica del plp il plp la prima riga verde è un sistema di anti interruzione dell'alimentazione consiste nel caricare un condensatore a bordo quello che avete visto quando l'abbiamo aperta per gestire fino a tre secondi di protezione man mano che viene accesa viene caricato ci sono le varie fasi rosso arancione verde il verde che passa da 1 a 3 secondi nella seconda riga abbiamo le informazioni sulla memoria installata e nella terza molto importante è lo stato di salute della memoria m2 nella quarta abbiamo la velocità di trasferimento in upload e download in tempo reale e abbiamo anche il tipo di connessione che viene riconosciuto in questo momento vedete che riconosce una connessione usb 2.0 massimo 480 mega per secondo nella prima riga abbiamo la temperatura del dispositivo e lo stato se ci fosse stato un errore una tensione di alimentazione troppo bassa sarebbe visualizzata nella prima riga allora poi abbiamo le funzioni del pulsante dunque un doppio clic ruota lo schermo di 90 gradi vedete si riavvia gira di 90 gradi di nuovo 90 gradi se lo teniamo premuto vengono fuori tutte le informazioni sulle ssd il numero di serie la capacità il firmware degli arresti non sicuri la vitalità che al cento per cento e poi si torna al menu principale finiamo di vedere le informazioni abbiamo anche le ore il tempo totale di vita della memoria quante ore è stata accesa quante volte è stata avviata e le unità di lettura e scrittura con la scritta good alla fine quindi tutto ok chiaramente in gestione disco la prima volta che accediamo la memoria va inizializzata quindi viene trovato come disco 4 possiamo decidere se creare una partizione mbr gpt la creiamo gpt andiamo ad ampliare vedete che qui abbiamo un unità di base disco 4 con uno spazio non allocato tasto destro nuovo volume semplice andiamo avanti con la procedura guidata diamo le dimensioni del volume come vengono preimpostate assegniamo una lettera all'unità che può essere cambiata e diamo eventualmente un etichetta di volume procediamo tranquillamente con una formattazione veloce diamo fine vedete che il disco è pronto viene visualizzato ok a questo punto proviamo a fare un trasferimento prendiamo subito un file da 300 mega lo copiamo mi riporto sulla cartella del nostro doc case e proviamo a incollarlo dunque da windows dice che stiamo andando a 40 mega al secondo e vedete che qui ci dà un 41 questa è tutta la schermata che compare quando siamo in fase di scrittura proviamo ora a prendere un file un po più grosso da 6 giga lo prendiamo lo copiamo riapriamo la cartella del nostro doc case e proviamo a fare il trasferimento ok parte immediatamente vedete che il computer di nuovo mi notifica una velocità di 41.5 megabyte al secondo nella nostra doc case abbiamo una velocità di 41 mega al secondo i mega che sono stati trasferiti fino a questo momento durante il trasferimento abbiamo nella colonna bright vedete che anche schematizzato a livello grafico con tutti i valori di velocità e di megabyte trasferiti perfetto scrittura terminata ritorna tutto nello stato normale della schermata principale con riassunte le situazioni allora adesso visualizza una temperatura di 40 gradi se io la tocco effettivamente sta iniziando a scaldare ma è tutto verde e ancora tutto nella norma ora cancelliamo questi due file che abbiamo copiato ogni volta che facciamo un'operazione compare la schermata di scrittura e lettura e adesso facciamo la procedura inversa quindi prendiamo il nostro file da 300 mega e in lettura lo spostiamo nel computer vedete che è pressoché istantaneo proviamo a farlo con un file un po più grosso e avete notato che la velocità in lettura è full minea non fa neanche in tempo ad uscire la velocità sul display la scolleghiamo brutalmente dalla type c vedete che lui fa comunque un arresto di sicurezza e proviamo a cambiare questo misero cavetto con uno un po più veloce ora proviamo a collegarla con un cavo type c della uki ad alta velocità vediamo cosa cambia perfetto carica subito il plp vedete che adesso mi dà una connessione usb 3.0 massimo 5 gigabyte per secondo e ora andiamo a rifare gli stessi test prendiamo un file da 6 giga da copiare e lo portiamo nella dock case windows notifica una velocità di 350 megabyte al secondo che viene confermata anche dalla dock case trasferimento che è stato velocissimo proviamo a prendere un file da 11 giga e trasportiamolo direttamente nella dock case vedete che windows da una velocità di 350 circa megabyte al secondo che sono gli stessi che vengono visualizzati anche dalla dock case chiaramente utilizzando un cavo idoneo vedete che il risultato cambia notevolmente ora proviamo a fare invece la copia in lettura quindi il trasferimento di un file di 11 giga dalla nostra dock case al nostro computer lo trasciniamo di qua il computer mi dà una velocità di 400 megabyte al secondo che viene anche correttamente confermata in lettura sul display perfetto una bomba vi faccio vedere che attualmente mi segna 40 gradi di temperatura in effetti il case ben caldo ma essendo tutto in alluminio con ancora queste alette è fatto apposta per questo e non da problemi vi faccio vedere come utilizzare il pulsante di sotto quindi abbiamo visto che tenendolo premuto possiamo entrare in vari menu che scorrono quando troviamo quello di nostro interesse dobbiamo lasciarlo di nuovo teniamo premuto ssd about me entriamo nelle configurazioni che sono tutte le informazioni serial number eccetera poi possiamo cambiare spostandoci col cursore lampeggiante il red only mode quindi sola lettura possiamo spostarlo in on oppure ci rimettiamo su off questa è una cosa molto interessante lo screensaver possiamo modificarlo io l'ho portato su off quindi di fatto sta sempre accesa per non tenerlo acceso per molto tempo inutilmente direi che se facciamo ad esempio un minuto potrebbe essere un valore interessante l'image di boot è attualmente su off ma possiamo anche impostare questo run o b e v che sinceramente non so bene cosa siano il linguaggio abbiamo per il momento solo inglese cinese o giapponese suppongo restart dopo ssd abbiamo about me e monitor su monitor abbiamo il system monitor quindi le temperature le tensioni e qui avremo un grafico con tutta la parte visiva che va a darci un colpo d'occhio del comportamento delle temperature e delle tensioni ora che la sto tenendo in mano vi dico che la temperatura sta salendo perché chiaramente non dissipa vedete che siamo già a 46 gradi lasciandola all'aria aperta invece ci aiutiamo il dissipatore a svolgere la sua funzione quindi non è consigliabile tenerla in un ambiente chiuso o in un posto dove comunque non circoli aria sul dissipatore che non consenta al suo naturale smaltimento del calore bene questo gioiellino che è poco più grosso di un microfono rode anzi praticamente uguale mi sta piacendo un sacco il condensatore all'interno serve anche a fare l'arresto perché nel momento in cui la scolleghiamo vedete che va in bright protection viene fatta una diciamo sconnessione sicura provando poi su quest'altro computer quello del negozio sulla type ipc direttamente al case col suo cavo mi dà una connessione usb 3.1 al massimo 10 giga per secondo di velocità massima fantastica secondo me è un accessorio indispensabile come vi ho detto inizio video per chi fa trasferimenti di grossi file posso dirvi che adesso la sto usando da un mesetto funziona benissimo mai avuto un problema l'ho maltrattata non è neanche rigata il case è fatto bene un buon materiale quindi se vi può servire vi lascio tutto in descrizione sapete dove trovarla se il video vi è piaciuto un bel like come al solito e grazie se non costa niente iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video se passate negozio da torino ci prendiamo un caffè dovremmo riprendere le dirette del giovedì sera da settembre grazie a tutti ciao da massidattoli ciao 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 Grazie a tutti